Il camper di Giovani Si in tour arriva a Livorno e nel suo lungo viaggio nelle scuole di tutte le province toscane fa tappa al liceo Cecioni. L'obiettivo è incontrare le ragazze e i ragazzi e presentare loro le opportunità che la regione offre con il progetto regionale per l'autonomia dei giovani. In maniera semplice e diretta Giovani Si parla agli studenti degli strumenti che la regione offre per creare il proprio futuro dall'autonomia alla formazione al lavoro quindi opportunità come borse di studio, tirocini e imprenditoria o semplicemente come orientarsi tra le varie possibilità se ancora non si è scelta la strada da percorrere. Oltre 5.000 studenti, più di 300 classi in 21 scuole, in poco più di un mese. Noi non veniamo qui a raccontare cosa i giovani devono fare ma cosa i giovani possono fare grazie anche ai tanti bandi che la regione offre con il progetto Giovani Si che ormai ha 11 anni e in 11 anni ha investito ben 1 miliardo e 400 milioni per le nuove generazioni. Ho in mente quasi mezzo milione di giovani toscani che grazie alla regione toscana si sono resi più indipendenti dalle proprie famiglie. Il messaggio che ispira l'intero viaggio è i care di Don Lorenzo Milani. A 100 anni dalla nascita del priore di Barbiana questa frase si conferma sempre più obiettivo a cui tendere soprattutto per le nuove generazioni. All'incontro ha partecipato il presidente della regione Eugenio Gianni perché come ha detto le istituzioni devono uscire dai palazzi e parlare faccia a faccia con i giovani. Giovani Si significa soprattutto mettere in comunicazione i giovani con le politiche della regione e le politiche della regione sul piano del lavoro. Apprendistati, tirocinio, canalizzazione attraverso le start up della creatività dei giovani sull'applicazione all'imprenditorialità e al lavoro. Contemporaneamente è l'obiezione di coscienza su cui stiamo costruendo tutti i bandi per rilanciare un'obiezione di coscienza che nasca dai luoghi in cui c'è bisogno in Toscana e abbia le risorse per poter dare il giusto, quantomeno ristore e rimborso ai giovani. Le condizioni di promozione di quello che possono essere strumenti di creatività da parte dei giovani attraverso appunto centri specifici che ne valorizzano l'aggregazione e l'attività. Noi ci abbiamo investito tanto, tante risorse, tanti bandi sono stati realizzati e sono pronti dal piano del sociale a quello della cultura. Con i nuovi fondi europei cercheremo di iniziare un percorso anche sullo sport. Insomma vogliamo far sentire ai giovani che le istituzioni ci sono. Grazie a tutti.